Il progetto svolto nella scuola è per noi il fiore all'occhiello, la parte più felice di tutto il progetto più ampio che ha visto le campagne di affissioni, sulle tematiche che stanno a cuore all'assessorato e su tutto il progetto finanziato dai fondi comunitari. Questo della scuola è riuscito particolarmente bene per un grandissimo entusiasmo da parte dei ragazzi, ma prima ancora da parte degli insegnanti che sono stati formati per fare il lavoro con i ragazzi. Quello che abbiamo visto oggi come prodotto dei ragazzi è un'idea di salute così complesso, così ampio e così completo che rappresenta esattamente tutto l'uomo che deve venire fuori crescendo sano dalla scuola. Questo è quello che mi rende più orgogliosa di questo progetto che è stato svolto con massima partecipazione e massimo impegno da parte di tutti. E un'altra cosa molto interessante, il metodo utilizzato è stato apprezzato tanto dagli insegnanti, che quasi quasi si configura come una buona prassi da attuare come metodologia delle scuole anche in altri ambiti, in altre materie, perché i ragazzi rispondono con grandissima partecipazione. Grazie a tutti.